Infissi di lusso per ville private, come sceglierli correttamente? Ciao, sono William Bisacchi, fondatore di blog bisacchi.it e titolare della Bisacchi Infissi, che dal 1973 si occupa di infissi per abitazioni e ville private. Come scegliere infissi di design, infissi di pregio, infissi di lusso? Alla Bisacchi, nella mia azienda, abbiamo il sistema Bisacchi, che è il nostro metodo di lavoro, che parte da una consulenza che viene fatta proprio qui in sala vostra, dove sono in questo momento, e dove ti guidiamo nella scelta del serramento, meglio per le tue esigenze e anche per come è strutturata a casa tua, quindi le dimensioni delle finestre, dell'esposizione, eccetera, eccetera. Poi si va in progettazione dell'infisso attraverso AutoCAD, la produzione dell'infisso perché siamo produttori da 50 anni, da 51 per esattezza, poi si va nella fase di poso in opera, dove l'infisso viene posato con il sistema Bisacchi, quindi con le ultime tecnologie presenti sul mercato, dagli stessi tecnici specializzati che hanno costruito l'infisso stesso. E poi avrai diritto alle tre nostre garanzie, che sono i costi certi, 10 anni sulla posa in opera, e il controllo gratuito entro 24 mesi dalla fine dei lavori. Se anche tu vuoi essere seguito da dei professionisti, vuoi essere aiutato attraverso la consulenza, e vuoi avere le tre garanzie sul risultato finale, compila il form che trovi qui sotto e ti contatteremo entro 24 ore.